La capolista recanatese cade al Tuvaldi sgambettata dalla San Benedettese che dopo i pareggi con Pineto e Trastevere ottiene la prima vittoria il 2022 mentre i giallorossi dall'inizio del nuovo anno in tre partite sono riusciti a raccogliere un solo punto. Per questa gara il tecnico di casa Pagliari deve fare a meno di Raparo squalificato e decide di lasciare in panchina Giampaolo e il neoacquisto Minnozzi schierando in avanti all'inizio l'ex rosso-blu Ferretti e Defendi. Nella Samba Alfonsi oltre all'assenza di Angiulli deve fare i conti con gli indisponibili varghe di Domenico Antonio e propone un 4-3-3 in cui al centro dell'attacco c'è Cardella con Lisi e Ferrimarini che agiscono sugli esterni. Dirige Arcidiacono di Ascireale. I ritmi iniziali forse anche a causa della temperatura primaverile sono piuttosto compassati. L'area canattese riesce ad avere un certo predominio territoriale ma la Sambinettese è ben coperta e lascia pochi spazi con gli ospiti che provano anche ad affacciarsi in avanti al dodicesimo. Con un lancio da sinistra tagliare la difesa giallorossa su cui Lisi ruba il tempo a Quacquarelli ma di testa non riesce ad indirizzare verso la porta. I giallorossi premono e al sedicesimo sbaffa, domestica il pallone all'altezza e il vertice sinistro e prova una palombella. Knoflak controlla la traiettoria, terminare oltre la traversa. Al ventiduesimo un errore in fase di impostazione e il rosso-blu apri il campo all'apertura a sinistra per Senegaliesi e crosta sul secondo palo. Ferretti raccoglie e ci prova, Knoflak chiude in corner. Solida e compatta la Samba ammortizza bene le offensive dei padroni di casa anche se al momento di distendersi in contropiede non trova il modo di pungere e così l'ultima occasione della prima frazione arriva al minuto 38. Gomez pesca sulla fascia Ferretti che mette giù e dal vertice destro dell'area calcia forte ma centrale. Knoflak è attento e blocca sicuro. I minuti restanti della prima frazione non regalano altre emozioni e si torna negli spogliatoi a reti inviolate. Dopo l'intervallo Alfonso decide di inserire il nuovo acquisto buono per Ferri Marini e dopo un minuto dall'inizio della ripresa la Samba trova la rete che decide il match. Sul pallone spedito in area dalla sinistra alla difesa e la re canatese libera Alboni raccoglie i 25 metri e senza pensarci lascia partire un destro preciso che finisce la sua corsa nell'angolino alle spalle di Urbietis per il vantaggio della Samba. La re canatese si scuote e prova subito a gettarsi in avanti alla ricerca del pareggio. Pagliari inserisce Minnozzi e Giampaolo ma è ancora la formazione ospite a spiorare il gol al dodicesimo quando l'isi guadagna una punizione dopo una bella percussione steso da Somma all'interno della lunetta dell'area. Il sinistro incrociale di Gardella è insidioso ma termina di pochissimo a lato. I padroni di casa insistono e riescono a rendersi pericolosi. Al sessantesimo sugli sviluppi di un calcio di punizione serie di batti e ribatti in area che Paciardi prova a risolvere con una rovesciata in bello stile ma la sfera finisce fuori di un soffio. Altra opportunità per i giallorossi quattro minuti più tardi. Giampaolo raccoglie la sfera prima che termini sul fondo e trova lo spazio per centrare basso ma nessuno degli attaccanti di casa arriva a correggere verso la porta rosso-blu. L'area canatese le tenta tutte riversandosi in avanti e assediando l'area sanbenedettese in cui fa spiovere moltissimi traversoni su cui però la retroguardia ospite fa buona guardia limitando i rischi per il proprio portiere che si fa trovare pronto all'ottantasettesimo quando Minnozzi su punizione all'estremo settore di sinistra prova a sorprenderlo con un destro insidioso che Knoflak blocca con sicurezza. L'ultimo brivido che i giallorossi riescono a portare ai tifosi rosso-blu è con Giampaolo che a due minuti dal termine conclude al limite dopo una bella azione personale ma la sfera finisce sul fondo non di molto. Nel primo minuto di recupero la sanbenedettese va anche vicina a raddoppio con D'Agosto che entrato da pochi minuti riesce a trovare lo spazio in aria per il destro cogliendo la base del palo poi Peroni sulla ribattuta prova a mandare in rete ma sfiora il montante. Con le ultime energie giallorossi tentano l'assalzo finale che si infrange contro la difesa rosso-blu che non concede occasioni e al triplice fischio finale può festeggiare un successo importante sul campo della prima della classe mentre la re canatese è chiamata a invertire al più presto la tendenza per non compromettere quanto di buono fatto finora.